Entra nel vivo domani a Cittadella la Festa dei Veneti, manifestazione giunta alla 12esima edizione, tra convegni, concerti, rievocazioni storiche, spettacoli, culture e prodotti tipici. Un modo per riappropriarsi, rivendicare le proprie tradizioni, le proprie origini e il proprio essere veneti a 360 gradi, in un tempo in cui si parla troppo spesso di globalizzazione. E' proprio adesso ancora più importante, visto la globalizzazione e visto il progresso del mondo che va avanti, di tutelare, promuovere e cercare di essere gelosi custodi delle identità locali, della nostra storia, della nostra civiltà, della nostra identità e della nostra cultura in tutte le forme in cui lei si esprime. E per cui noi ci sentiamo ancora più motivati, ancora più responsabilizzati a portare avanti questo messaggio, perché il grande patrimonio della cultura e civiltà veneta possa essere poi tramandato anche alle future generazioni, perché il mondo ogni volta che perde una cultura diventa più povero. Ci sarà anche un censimento alle porte della città murata, dove chi vorrà potrà dichiararsi ufficialmente veneto cittadino. E il cuore di Cittadella sarà letteralmente invaso, come ogni anno, da mattina a sera. Un centinaio gli stand presenti e poi musicano stop con gruppi a rotazione sul palco, allestito in piazza Piero Bon, per concludere con lo spettacolo pirotecnico. Per cui speriamo che la gente venga e percepisca questo messaggio trasversale e senza nessuna colorazione politica che noi vogliamo dare alla nostra gente, perché tutti noi dobbiamo diventare gelosi custodi della nostra cultura.